E non rivedermi ancora, ma perché? Non lo so. Vuoi passare qui? Io non ti saluterò, se come l'onico ti rivederò. A senso del reazione, in tutti, non lo sai. E non sarà una parecchia, e a te a te, non sarà un paese. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. E non rivederò. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. A senso del reazione, in tutti, non lo sai. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. E non rivederò, se come l'onico ti rivederò. Don Giovanni, felicissima sera. Ben trovato. Ben trovato. Sì. State preparando. E a Monteparano si dovrebbe pure andare. E quando è arrivato? Quando finisce? Il tempo di preparare. E il tempo di preparare. Sì. 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 Sì.